Il nuovo shampoo palmolive liquido presenta Confidenziale con Sandra Milo. Ti ricordi che da bambine la facevamo sempre? Ci sembravano degli orecchini meravigliosi e per di più quando ce l'avamo stancate di portarli ce li mangiavamo. Guarda come sta bene, una fruttiera con le frutta disposte in armonia è decorativa come un bouquet di fiori. Ti consiglio di tenerne sempre una nel soggiorno perché le frutta con i loro colori e le loro forme hanno una bellezza particolare, la bellezza delle cose utili, utili nel senso che se vuoi le puoi mangiare. Adesso ti sembrerà una sciocchezza, invece un principio fondamentale dell'arredamento della casa. Quando un oggetto è usato nella casa senti subito che ha una vita. Io mi siedo qui, prendo una sigaretta, hai del fuoco. Prendi ad esempio i porta sigarette da tavolo, ti consiglio di non tenerli mai vuoti. Vedi, danno come un senso di inutilità. Sono questi i particolari che rendono una casa calda, accogliente. A proposito, ti piace questa? L'ho vista ieri nella boutique di Luciana. Avevo un appuntamento con Giorgio. Che magnifici i capelli, sembrano seta. Ti confesso che mi piace molto ricevere un complimento, tant'è vero che sono rimasta così di buon umore che ho comperato questa. Vuoi una caramella? Sai, ricevere un complimento è una cosa deliziosa. Perché sai, vale veramente la pena cercare di rendersi belli, attraenti. E a questo proposito, per avere capelli veramente belli, usa anche tu il nuovo shampoo palmolive liquido. Lo shampoo palmolive liquido contiene speciali oli vitalizzanti per rendere splendidi i capelli. Sì, i vostri capelli sono magnifici, morbidi e lucenti come seta con shampoo palmolive liquido. Nuovo shampoo palmolive liquido, capelli morbidi e lucenti come seta.